Ragazzi, per i ragazzi di Power Tennis faccio vedere un po' di Thomas Tenconi, il tennista italiano più in forma del momento, eccolo. Conduce 7-6, 4-3, 30-0. Sto surfendo, si stanno aumentando le palle. Seconda di servizio. Sp 是 Smash Tenconi c'è. Questa Tenconi è davvero un tennista massiccio. Eccoci con la matica. Secondo di servizio Anzi, Ace C'è stato un overrule 5-3 Gorchic serve per rimanere nel match Faccio vedere un altro po' di tenconi Spettacol Tenconi show Sul centrale Jenkins e Di Mauro 3-2 per Jenkins e il terzo set Out la palla di Thomas 15-0 Faccio vedere un grande scambio? Seconda Seconda Eh, fa la corta di Gorchic Noi Thomas, dai